Sì, è il netto, dimmi. Vieni, senti, tu che sei un intenditore, assaggia questo e dimmi cos'è. Colore chiaro, aspetto limpido, sapore pulito, semplice, non può essere altro che vino. Vedi bene, assaggia bene che non è il vino. Vino? Non è il vino, non è il vino. Coca-Cola aranciata? Non è Coca-Cola. Succo di frutta? Non è succo di frutta? Acqua limonata? Acqua limonata? Acqua limonata? Acqua limonata? Acqua limonata? Ma non è l'acqua limonata? Vedi bene che non è l'acqua limonata? Ma se faccio? O se faccio le picchie, non è possibile. Non lo so, ma faccio la ricotta. Come faccio la ricotta? Tu faccio la ricotta. La metti dentro la fuga, la metti dentro la fuga. Ma lo sai che ti pede? Che cos'è? Che rendicci con la salsa? Ma che può essere? Come non lo sai? Non lo so, non lo so, che ne so? Ma tu non fai non so se sei un intenditore. Ma qual intenditore? A parte i fatti che non mi chiamano nemmeno Michele. Come? Ma qual intenditore? Ma che ne so? Quello padre, Grazie.